Siamo nello spazio di Confindustria Cisambiente con un volto noto per The Map Report che è il nostro amico Alberto Padruno, direttore generale di Asso Impredia Confindustria. Dottor Padruno, praticamente lo spazio è centralissimo e in sottofondo si sente l'inaugurazione che è in corso. Quando si è emozionato? Siamo qui come ogni anno, come Asso Impredia, per sostenere sempre di più la clean economy. Rappresentiamo le aziende della manutenzione del verde e riteniamo che Ecomondo è il luogo dove ci si confronta tra il pubblico e il privato, tra le istituzioni e le imprese e le risposte concrete si possono dare solo quando c'è una sinergia tra tutti gli attori del settore. A proposito di sinergia e di attori, io inquadro il palco in questo momento dove sta per intervenire il ministro Gilberto Pichetto Fratin ma abbiamo notato nel suo sguardo una grande emozione quando è stato citato l'inizio di questo racconto. L'inizio si deve 12 anni fa al nostro caro amico Edo Ronchi, presidente di una fondazione della quale lei è nel Consiglio Nazionale. Sì, noi facciamo parte degli Stati Generali della Green Economy, del Consiglio di Amministrazione e oggi ci confronteremo anche su queste tematiche, così come periodicamente ci confrontiamo sul Roma con tutte le associazioni di categorie e tutte le realtà che si occupano di ambiente.